Il reato contestato è di associazione con finalità di terrorismo. Sono 7 gli arresti, 15 le persone indagate e oltre 30 le perquisizioni in 9 regioni nell'ambito dell'operazione Scripta Manent, condotta dalla Digos di Torino in coordinamento con il Servizio Centrale Antiterrorismo della Polizia, destinatari dei provvedimenti esponenti della Federazione Anarchica Informale e Fronte Rivoluzionario Internazionale. Fra questi anche Anna Beniamino, la compagna di Alfredo Cospito, l'uomo condannato per l'attentato a Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, gambizzato il 7 maggio del 2012. Fra le varie contestazioni spicca quella relativa all'esplosione di 5 ordigni, 3 presso il quartiere Crocetta di Torino del 5 marzo 2007 e 2 presso la caserma allievi carabinieri di Fossano del 2 giugno 2006. Secondo gli investigatori, le bombe in entrambi i casi erano programmate per essere attivate a breve distanza l'una dall'altra e arrecare danno all'incolumità delle forze dell'ordine intervenute sul posto.